Negli ultimi anni si sono diffuse varie soluzioni per combattere il crescente livello di stress percepito. Fino a un po' di tempo, fa c'erano i bonsai, e le fontanelle zen, da qualche anno sono arrivati i video rilassanti. Quelli di un fuoco che brucia, di un treno che viaggia lungo una ferrovia, di persone che lavorano a maglia per ore. Qualcuno li trova noiosissimi, qualcuno li critica dicendo cose del tipo È tristissimo essersi ridotti a guardare cose del genere da uno schermo, quando potremmo farle davvero, qualcun altro ne è un grande appassionato. Da meno di un anno esiste Moodica, un sito che per vice è il Netflix dei video zen e te verge Ha definito un catalogo di video fatti per rilassare, calmare e togliere lo stress, o che, comunque sono belli da vedere, anche se non vi considerate stressati. Moodica dice di essere un sito, che offre una vacanza al cervello grazie ai suoi video odli satisfying. È un concetto traducibile con stranamente appaganti e su internet va di moda da anni. Riguarda cose, apparentemente piccole, banali o trascurabili che per qualche motivo soddisfano e tranquillizzano chi le vede.